Oggi qua parliamo degli strumenti finanziari per l'efficienza energetica. Noi abbiamo, sapete, approvato un piano energetico molto sfidante che ha preso gli obiettivi europei dell'agenda al 2030 e oggi parliamo in specifico di come raggiungere quegli obiettivi attraverso degli strumenti finanziari innovativi. Noi abbiamo le competenze, le conoscenze, abbiamo le imprese che possono realizzare le opere e abbiamo il sapere. Noi dobbiamo soltanto mettere a questo punto in linea tutte le conoscenze che abbiamo riferite a come finanziare questi interventi, come trovare le convenienze fino a che questi interventi possano partire. Dobbiamo allineare insieme, vuoi, gli strumenti delle agevolazioni fiscali previste a livello nazionale con quelli che possono essere gli strumenti di incentivo a livello regionale che possono essere messi in campo. Questa è la sfida e dobbiamo cercare di vincere perché gli obiettivi sono ambiziosi, dobbiamo partire da subito per fare vedere degli interventi che si possono realizzare e che fanno tornare il conto sia dal punto di vista del bilancio economico sia dal punto di vista del bilancio energetico.